Beh sì, da un certo punto di vista sì, forse da un'ottica differente, diciamo io ho preso un colpo d'arma da fuoco su una gamba, lui l'ha preso sul collo, quindi insomma poi è stato mortale, però diciamo che in Italia… Però parlavo delle rapine, di quello che aveva fatto prima? Delle rapine, ah certo, in quel contesto sì, ho vissuto praticamente anche nel suo essere latitante, essere anche un cane rabbioso che voleva a tutti i costi cercare di sopravvivere in una Roma che l'ha ospitato, notturna, metropolitana, che poi ho descritto nel mio film abbastanza bene, molto dettagliata, lui aveva comunque questa legge di sopravvivenza, quindi doveva prendere delle prede per cercare di portargli gli orologi, i portafogli, tutto quello che aveva per mangiare, per andare avanti e quindi anche per comprarsi l'arma che poi è stata praticamente quella che ha colpito a morte il carabiniere, quindi insomma ho descritto e raccontato e ho vissuto e rivissuto sempre, come mi capita, non ci sono questi fatti un po' particolari, quello che è stato un po' nel mio passato, reale. Ricordiamo poi il protagonista che era Massimo Bonetti, che saluta, un grande interprete, un grande attore, insomma. Ho interpretato magistralmente il ruolo di Luciano Riboni, è stato veramente bravo, devo dire, è accredibile, ha creduto nel personaggio, perché molte volte si prendono attori che fanno un po' delle marchette e non credono in quello che fanno, devo dire Massimo ha creduto molto nel film e infatti il lupo era lui veramente, non potevo, ha fatto la scelta migliore, in quel momento mi sono reso conto che era entrato nel ruolo in pieno ed ha portato, ha trascinato con sé tutti quanti, è veramente un grande attore, completo. E anche una gran brava persona, c'è Massimo, un altro saluto con l'amicizia. Invece parliamo del peso dell'aria, invece i protagonisti sono dei protagonisti, tra l'altro qualcuno viene anche dalla fiction, tipo Giampiero Lisarelli per esempio. Giampiero Lisarelli secondo me è un po' rato dire che viene dalla fiction, perché lui viene dal branco di Marco Risi come primo film suo, come protagonista per ogni volta sullo schermo, film che poi è andato a Venezia, Giampiero è andato a Venezia una prima volta sullo schermo con quel film e poi è fatto anche l'odore della notte di Claudio Caligari, quindi viene dal grande schermo, poi è entrato nel piccolo schermo come tanti, purtroppo poi per la necessità di questo lavoro bisogna pervivere, è fatto con queste 5 serie di Carabinieri, però devo dire che io non ho visto 5 minuti di Carabinieri Lisarelli, ho visto il branco e l'ho apprezzato e l'ho scelto e lo stimo proprio per quello che ha fatto all'ialo cinematografico in quel contesto e come ripeto per la prima volta sullo schermo. Invece a proposito di prime volte abbiamo Brunella De Nardo che è la protagonista femminile che è la sua prima esperienza e abbiamo fatto una preparazione di due mesi e mezzo all'interno di Cinecittà Studios dove sono i nostri uffici ed è stato fatto un ottimo lavoro e devo dire sono soddisfatto. Affiancato da un cast comunque io faccio la parte dell'usuraio e quindi dal ruolo di Stefano Nissiroli, poi abbiamo Claudio Angelini, Bessio Grangerini, abbiamo Vincenzo Crocitti a proposito di grandi attori del passato che insomma ricordiamo su un borghese piccolo di grande Alberto Sordi, faceva il figlio, poi Cintia Mascoli, Corrin Clerì che fa la mamma della protagonista, insomma è un cast di tutto rispetto, un attore che secondo me hanno creduto, come ripeto, a quello che è il contenuto della storia, quello è la cosa importante. Lunedì battiamo il ciacca e iniziamo e quindi speriamo sicuramente che il gruppo che ho portato si è già amalgamato bene, io li faccio conoscere prima, facciamo delle letture perché quando si era sul set non ci devono essere prime donne o persone che non si conoscono, quindi è molto importante anche questo. Torniamo ancora, prima di finire di parlare poi del film, naturalmente voi vogliono sapere anche quando uscirà, quando è previsto uscire eccetera eccetera, però torniamo ancora un attimo al tema principale del film che è quello che parte poi proprio dalla precarietà, quello che attualmente nella nostra società ci sono tanti giovani, poi dicono spesso, il modo di dire di tutti è questo, le parole di tutti sono che i matrimoni, poi questa è la statistica tra l'altro, i matrimoni diminuiscono, i divorzi aumentano, ma non è soltanto un fatto di crisi di coppia, io penso che sia un discorso, in questo momento ci sono delle generazioni di giovani che guardano al futuro con un senso di precarietà e incertezza sicuramente a livello lavorativo, questo è praticamente un giovane che si trova ad avere dei contratti non a più tempo indeterminato, ma contratti, adesso si chiamano Coco Pro a progetto, erano i vecchi Coco Co, questo succede addirittura in posti incredibili come per esempio addirittura il Ministero dei Trasporti, esiste la centrale operativa del Ministero dei Trasporti a cui hanno accesso praticamente tutti i dipendenti che lavorano per ditte esterne, che però hanno accesso ai dati sensibili di tutti gli italiani che hanno a che fare con la motorizzazione e sono dipendenti che lavorano tutti a progetto, quando prima erano a tempo indeterminato, poi è fallita la società e sono stati riassunti a progetto, questa è una cosa piuttosto grave che poi si è ripetuta, si ripete e si allarga a macchia d'olio tra l'altro, ci sono delle aziende che hanno circa il 90% dei lavoratori a progetto e più che un'azienda sembra quasi un'agenzia di collocamento, una cosa del genere è chiaro che poi ti fa finire, sicuramente favorisce la crescita dell'usura naturalmente, cosa ne pensi Stefano di questo? Io penso esattamente quello che hai detto tu, non è un punto di vista ma è un teorema piena verità, pura, perché poi adesso il contesto è diventato anche diverso da quello che poi sono state le cose che ho letto e ho sentito, non c'è neanche più il vecchio usuraio che manda i due tizi, i due scagnozzi all'interno della struttura a chiedere, no adesso fanno proprio un bonifico, come se fosse un mutuo e se non arriva praticamente sul computer della banca e dell'usuraio parte subito la squadra d'azione e vanno a spassaltare, questa è una cosa inquietante ma purtroppo vera e devo dire che ci sono cambiati anche i metodi, c'è stata l'evoluzione un po' su tutto e sono all'avanguardia anche loro, insomma è una cosa inquietante purtroppo ma reale. Un'usura ormai informatizzata? Sì, infatti, questa è una cosa che devo dire che comporta una problematica esistenziale non indifferente ma bisogna fare qualcosa, secondo me affrontarla, non aver paura a parte i numeri verdi che ci sono, cerchiamo pure di metterti in condizione di fare qualcosa di più, quindi anche sul sociale, tirare fuori chi come noi ha la possibilità di portare avanti un contesto del genere, chi ha col potere dei media stesso discorso, quindi bisogna fare un qualcosa, ognuno di noi deve fare qualcosa perché è una brutta piaga e dobbiamo cercare di qualche modo di far valere quello che sono veramente dei valori che si possono trovare da qualche altra parte, non in queste casse che possono diventare veramente casse da morto perché non ci si scherza, gente che non scherza assolutamente, quindi è molto importante riflettere su questa cosa. Guarda, io Stefano ti ringrazio comunque da parte mia e da parte anche dei nostri struttori per il contributo che dà l'informazione, sicuramente cinematograficamente dai una grossa mano anche a noi che ci occupiamo sempre di problemi sociali, di attualità, di cronaca, ma soprattutto volta a salvaguardare poi i diritti dei più deboli, di persone che spesso non hanno voce, che vengono schiacciate dall'arroganza e dal potere di pochi eletti. Ringrazio voi, perché comunque è importante. Una cosa, quando è prevista l'uscita del film? Allora, è prevista per febbraio 2008 probabilmente, perché tra il montaggio e tutto, prossimo anno sicuramente, febbraio 2008 come data indicativa, poi a secondo del potrebbe essere anche anticipato a gennaio, vediamo un attimino anche da quello che sono le uscite, perché noi siamo una piccola produzione e distribuzione. Riprendiamo la poker film proprio. La poker film, sì, sì, quindi la produzione indipendente, mia di Carlo Bernabèi e facciamo forza su questa distribuzione e produzione, però insomma siamo andati a colupo in tutta Italia, abbiamo toccato tutti i capozona d'Italia e quindi lo faremo anche con questo e l'abbiamo previsto per febbraio 2008, poi insomma salvo complicazioni, ma mi auguro che non ce ne siano. Perciò ricordiamo che il primo Jack sarà proprio a Guidonia, a Guidonia lunedì, insomma il 2 luglio appunto, cioè lunedì prossimo, dopo domani. E naturalmente per quanto riguarda invece l'uscita, poi io ho prenoto già una puntata che abbiamo già parlato, tra l'altro dedicheremo però interamente al film, insomma quando sarà realizzato chiaramente. Perfetto, ma è grande, benissimo. Bene, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e in bocca al lupo per tutto, insomma per l'inizio di questo film e per l'inizio, assoluto per l'argomento, veramente complimenti per l'argomento trattato perché non è facile neanche da trattare, ecco bisogna trattarlo anche con coraggio, ma oltre che con professionalità. Bene, grazie ancora. Ciao Stefano, grazie e buona giornata. Bene, ritorniamo ancora con noi, ringraziamo Stefano Calvagna.